L'Associazione Culturale Leninfe presenta Il nostro personaggio in scena, seconda edizione Se sei uno scrittore o un attore ed hai una storia da raccontare, mettiti in gioco. Scrivi un monologo che dovrai interpretare in prima persona. Potresti essere tu il vincitore del nostro personaggio in scena. Scarica il bando e la scheda di partecipazione alla pagina Facebook Associazione Culturale Leninfe e invia tutto al nostro indirizzo entro il 20 novembre.